Il nostro inviato Matteo Parlato ha intervistato Don Carmelo Petrone, portavoce della Curia di Agrigento, che domani insieme con altri sacerdoti, come abbiamo detto, accoglierà il Papa in visita a Lampedusa. Sentiamo. Ci può spiegare la genesi, i simboli e il messaggio finale di questa visita pastorale del Papa? La genesi presumibilmente è nella lettera che Don Stefano Anastasi ha indirizzato appena eletto Papa Francesco, ma anche nell'incontro che l'arcivescovo ha avuto nel maggio scorso in occasione della visita di limina dei vescovi siciliani a Roma. In quell'occasione Monsignor Montenegro consegnò al Papa una croce in legno fatta con il legno dei barconi che arrivano sull'isola e ha avuto modo di parlare dei migranti, ha avuto modo di parlare della situazione di Lampedusa. In quell'occasione il vescovo lo invitò, però nessuno sperava che ad appena un mese quel Papa avrebbe accolto quell'invito, un invito che ha accolto tutti di sorpresa quando il primo luglio l'arcivescovo ha annunciato l'arrivo di Papa Francesco a Lamberusa appena una settimana dopo. Ci saranno anche dei segni particolari, verrà dato al Papa un pastorale a forma di croce fatto da un artigiano dell'isola, Francesco Tuccio, realizzato sempre con il legno dell'imbarcazione che nella parte superiore contiene due pani e lungo la parte verticale contiene cinque pesci, è l'episodio evangelico dei due pani e cinque pesci, date voi da mangiare, cosa abbiamo? Due pani e cinque pesci, è quello che la comunità di Lamberusa ha fatto.